Ragazzi, la consegna è fra due ore. Ma sarebbe domani. Domani è un altro giorno. Sapete cosa vuol dire, no? Lavorare come se non ci fosse un domani. Tranquilli, ragazzi. Abbiamo Nutella birra. Dai, dai, dai. Per me niente? Certo. Consegna le 16. 14. 15 e chiudiamo. Andata. Ma sei un king.